Saluto Marco Lodoli. Marco Lodoli ci racconterà della vita di quel gruppo di artisti tedeschi che nei primi anni dell'Ottocento scelzero Roma come luogo ideale, luogo ideale non solo per la luce ma soprattutto per realizzare quegli studi sulla natura nella pura concezione dell'idealismo romantico. Grazie. Ringrazio Lorena Munforti e Giancarlo Riccio che curano tutto questo ciclo di conferenze, di incontri che mi hanno invitato a parlare di questa faccenda dei pittori nazareni a Roma che nasce per me in un modo particolare, nel senso che io non sono un critico d'arte anche se ho avuto anche delle gallerie d'arte negli anni 70, fino agli anni 70 con degli amici e con dei poeti e degli artisti, un po' con l'idea proprio della confraternita, proprio con l'idea quasi un po' spirituale che avevano i nazareni, anch'io mi sono occupato di arte con questa comunanza insomma tra pittura e poesia, ma la cosa nasce in modo un po' casuale per me questo incontro con i nazareni semplicemente dal fatto che Joseph Antoncock, di cui poi vedremo delle opere, e Joseph Antoncock era mio nonno, diciamo, questo è l'origine del mio interesse, ho appeso appunto, è stato anche citato, insomma questa è la mia breve prosa, ho appeso nella casa di campagna quest'albero genealogico in cui ha insomma il tronco, la base di tutto, c'è questo Joseph Antoncock e accanto la moglie Cassandra, Cassandra Ranaldi che era di Olevano, come spesso accadeva in quel tempo Olevano romano era patria di modelle essenzialmente, di belle ragazze che questi pittori sceglievano e poi a volte sposavano, insomma nella tradizione tipica dei pittori, quindi ecco la catena insomma che unisce Joseph Antoncock a me è formata da lui, poi ci sta Pietro che era un figlio, il figlio di Pietro erano Ottaviano e Gaetano, Koch che erano per intenderci quelli che ingegneri, architetto che hanno costruito Palazzo Koch della Banca d'Italia, che hanno costruito l'ambasciata americana, quella che non era all'epoca ambasciata americana, quel palazzo finto rinascimentale che sta in curva a Via Veneto, che davanti sembra immenso, poi è strittissimo, insomma c'è qualcosa che non funziona e anche Piazza Esedra e tanta di quella Roma di fine ottocento, poi appunto c'è dopo Gaetano e Ottaviano c'è stata mia nonna Enrica, poi mio padre Renzo che ha fatto anche lui l'ingegnere ma anche lo scrittore a tempo perso e poi io, quindi voglio dire ogni tanto mi rivolgo indietro e vedo che in fondo è stata una famiglia di artisti ma anche di ingegneri e di costruttori, quindi una specie di giusto equilibrio tra un senso estetico e un senso anche un po' pratico della vita che è quello che poi noi che siamo qui a Roma riusciamo a conciliare, sentiamo la necessità di tenere insieme questi due aspetti, quello più vaporoso e poi anche il San Pietrino, il Selciato, proprio l'esistenza più cruda che ci manda avanti tutti i giorni. Però guai se manca questo elemento spirituale dell'arte, questa dimensione dell'immaginazione che è fondamentale, anzi noi viviamo in un tempo, sappiamo bene come sentiamo proprio l'impoverimento della nostra civiltà sia da un punto di vista economico per la crisi vigente sia però anche proprio perché l'immaginario si è compresso, si è impoverito e anche quella dimensione un po' spirituale dell'arte che io sento come quasi inevitabile per chi si occupa di scrittura, di pittura, di cinema, di poesia, di musica, invece oggi sembra assolutamente dimenticata, viviamo in un tempo diciamo oggi di neorealismo potremmo dire, come quello che succedette ai pittori nazarelli, anche oggi c'è questa dimensione un po' di presa diretta sulla realtà perché certo i problemi sono molti e quindi si racconta di più l'Italia del disagio, del precariato, dell'immigrazione, della droga, dello scandalo, della corruzione, però io credo che l'arte invece ogni tanto avrebbe bisogno proprio di voltarsi indietro e recuperare quelle che sono le sue stanze primarie, quelle che appunto da sempre, da Dante a Petrarca fino a oggi o fino a ieri hanno prevalso su tutto il resto. È interessante appunto parlare di questi nazareni un po' perché innanzitutto voglio dire a Roma, vi faccio questa breve, io se voi sapete c'è anche una rubrica di cose romane, tutte le domeniche scrivo su Repubblica, giro molto per la città, entro nelle chiese, nei cortili, nei bar, nei mercati e mi rendo conto che poi abbiamo una città che non stanca mai di sorprenderci se abbiamo l'occhio per vedere, è una miniera infinita di occasioni per approfondire dei discorsi, per farsi delle domande o semplicemente come dire per sbarcare su delle isole di bellezza. Allora, per esempio, una cosa che mi ha colpito è questa, che a Roma naturalmente sono passati tutti gli artisti del mondo, tutti gli artisti del mondo, da Wagner a James a Leopardi, tanta gente, sappiamo che è uno dei luoghi delle mete di pellegrinaggio artistico quasi obbligatorio nel tempo del Grand Tour, ma poi anche dopo da Fellini a Viscotti, tutti sono arrivati qua a Roma a fare gli artisti, però a Roma c'è solo una via che ha, giustamente, c'è una via che ha questo nome, Via degli Artisti, si chiama Via degli Artisti, non so se qualcuno di voi sa dove è Via degli Artisti. Via degli Artisti è una traversetta dietro, insomma, verso il Pincio, dietro Via Veneto, dalle parti di Via Crispi, insomma, lì c'è una stradina che si chiama Via degli Artisti dove c'era per l'appunto il convento di Sant'Isidoro ed è la via chiamata così perché lì abitavano i Nazareni. Quindi questo piccolo gruppo abbastanza sconosciuto di pittori, che certo non hanno lasciato un'impronta proprio indelebile del mondo dell'arte, tant'è che forse voi nemmeno li conoscete, giustamente quasi direi, però ciò nonostante hanno perlomeno segnato e occupato nella nostra topografia cittadina, hanno dato il nome a questa strada, Via degli Artisti, perché questi Nazareni si vedevano lì. Ho letto, ho trascritto una descrizione di come venivano visti anche dai Romani questo strano gruppo di artisti. Dice, questi Alemanni, Alemanni perché erano tutti austriaci o tedeschi, erano chiamati col nome di Nazareni, solevano portare lunghi capelli e la barba divisa. Negletti erano nel vestire e poiché portavano grosse scarpe, taluno per beffa dava loro anche l'appellativo di scarponi. Questo è molto divertente, questa cosa tipicamente romana, in cui, come dire, il sublime e il terra terra, insomma il cielo e la cucina stanno proprio abbracciati. Per cui questi si chiamavano i Nazareni perché naturalmente erano iper spiritualisti, capelloni con la barba, tedeschi vivevano in povertà estrema, però i Romani li chiamavano anche gli scarponi, questo mi sembra simpatico. Essi formavano una specie di setta, la quale faceva scopo della vita lo studio dell'arte, fuggendo qualunque ritrovo o amena compagnia. L'unico loro sollazzo era di fare di quando in quando a piedi lunghe gite e strada facendo giocare al gioco della piastrella e alla fionda, esercizi usati dal nostro popolo secondo il fare antico. Tale austerità di vita dovette, al certo, sembrare strana alla maggior parte dei nostri artisti, in genere buontemponi, i quali erano soliti fare baldoria e passare le ore della sera in qualche osteria, con la pipa in bocca, mescendo tra un bicchiere e l'altro ogni sorta di piacevolezza. Ecco, quindi questo gruppo di artisti tedeschi pionva a Roma in modo un po' come un corpo estraneo, perché abbiamo detto appunto che i romani, gli artisti romani non erano abituati a questa austerità, a questa severità, a questi qui che come unico diletto facevano delle passeggiate, ogni tanto giocavano a piastrelle e quindi invece gli artisti romani, come abbiamo visto, erano un po' dentro quella dimensione che noi conosciamo bene, un po' dello scherzo, della convivialità, dell'osteria, del bere, dello sghignazzare, insomma, si prendevano poco sul serio, però assistono all'arrivo di questo gruppo di artisti un po' esterefatti, perché invece proprio il centro della poetica dei Lazzareni è proprio questa idea di purezza assoluta, la purezza, che è qualche cosa che a volte infastidisce, può arrivare persino a essere irritante questo rigore, questa inflessibilità morale ed estetica, però ogni tanto serve, almeno come punto di vista. Recentemente, non so se avete visto anche la mostra dei pre-Raffaelliti, che c'è stata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, è un gruppo, i pre-Raffaelliti, in qualche modo simile, anche se i pre-Raffaelliti sono per me, secondo me, da quello che ho capito, più mondani, più morbidi per certi aspetti, più inglesi, leggermente più affettati, ecco, loro è un percorso veramente artistico, cioè loro vanno a recuperare certe tematiche, certi modi della pittura che precedono Raffaello, ma proprio per una specie di inclinazione estetica, perché gli piace quel mondo lì e secondo me sono anche dei pittori modestissimi a vedere i quadri dei pre-Raffaelliti, la mostra è stata una certa delusione, perché abbiamo sempre letto e studiato di questi pre-Raffaelliti, poi quando uno vede i quadri ci rimane un po' male. Invece questi nazareni, cheppure hanno la stessa attitudine, cioè quella di recuperare la pittura italiana prima di Raffaello, però tutto quello che in loro c'è di duro, tutto quello che c'è di goffo, addirittura di goffo, di semplice, di primitivo, di artisticamente un po' scadente quasi, loro in qualche modo, in qualche modo lo rivendicano come un tratto di nobiltà morale, cioè non bisogna eccedere nel manierismo, non bisogna arrivare a quella abilità barocca, a quella sontuosità della pittura primo settecento di Tiepola, eccetera, eccetera. Bisogna invece mantenersi tutti dentro una sprezza, dentro una povertà, dentro un'essenzialità, perché lì è l'anima dell'arte, perché non si fa gli artisti per fare, per rendere il mondo più bello, non è questo il percorso dei nazareni. Si fa gli artisti perché per introdurre nel mondo una certa dose di spiritualità, di cristianità, questo è il concetto poi di fondo di questi nazareni, perché non si chiamano nazareni solo perché hanno i capelli lunghi e la barba lunga, ma proprio perché invece sentono il cristianesimo come motivo fondante dell'arte. No? Quindi, c'è qui, voi sapete, c'è questo passaggio, siamo proprio, gli anni di cui si parla, siamo 1802, 1805, 1807, fino al 1820, le estreme cose, e prima, forse anche alla fine del settecento, siamo in quel momento in cui c'è in tutta Europa quella polemica aspra tra l'arte neoclassica e l'arte romantica, quella che abbiamo studiato anche a scuola, le lettere, poi vedremo, di Manzoni, le lettere di Manzoni sul romanticismo, gli interventi di Leopardi, la lettera di Madame de Style sulle traduzioni, quelle cose che si studiano sempre a scuola, no? Quel momento di grande tensione tra due modi di vedere non soltanto l'arte ma la vita, la vita stessa. Naturalmente qual era l'idea del neoclassicismo, sapete, si è in qualche modo sposato all'illuminismo, no? Alla rivoluzione francese. C'è una strana cortocircuito, per cui un movimento intellettuale così progressista, così d'avanguardia, così democratico, così rivoluzionario come l'illuminismo, ateo, materialista, sensista, libertino, oltre che libertario, per certi versi, poi però quando devono fare i quadri, quando devono scegliere che strada prendere da un punto di vista estetico, scelgono David, scelgono Canova, scelgono il neoclassicismo, che è un po' una contraddizione in termini, cioè mentre politicamente, culturalmente, i libri di gioielli indiscreti di Diderot, libri proprio erotici anche, i libri, i saggi sulla tolleranza di Voltaire, l'enciclopedia degli illuministi e poi la rivoluzione francese, tutto quello che è conseguito, la rivoluzione americana, però quando si tratta di dipingere, fanno gli orazzi contro i curiazzi, fanno la morte di Marat come un quadro neoclassico, fanno Paolina Borghese, fanno le grazie, cioè recuperano tutto un mondo, recuperano tutto un mondo l'arte neoclassica, illuminista, un mondo pagano e anche di riferimenti alla Grecia e a quel mondo lì, proprio perché? Per due motivi, essenzialmente, perché l'illuminismo si accoppia paradossalmente quasi con il neoclassicismo, uno perché ovviamente il neoclassicismo ti dà quell'ideale di razionalità, mentre l'arte classica si svolge dentro un mondo finito, finito nel senso di conchiuso, cioè non c'è un'alterità, il mondo è questo, il mondo è questo, qui bisogna agire e bisogna trovare gli elementi di razionalità che sono interni alla natura, gli elementi di armonia che stanno e presiedono allo svolgimento della natura e dell'arte, quindi l'arte illuminista e l'arte neoclassica si incontrano, l'illuminismo e il neoclassicismo, in questa idea di ordine e di razionalità, ma poi c'è un elemento anche politico, perché l'arte neoclassica in qualche modo si appoggia anche a quell'ideale di virtù romana, greca, quel mondo di gente che viveva per la patria, per la società, che si metteva da parte rispetto allo Stato, quindi c'è un ideale, come dire, anche quell'ideale un po' giacobino, in cui l'individuo conta poco a un certo punto rispetto a quello che è l'organizzazione sociale e una nuova società ha bisogno di eroi, ha bisogno di virtù cittadine, di virtù civiche e per questo il neoclassicismo va bene, perché appunto uno può rappresentare gli eroi della rivoluzione francese come fossero Orazio Coclite o Muzio Scevola, cioè quell'idea di dedizione alla patria, quindi c'è questa strana cosa per cui l'illuminismo, che abbiamo detto, è capace anche di scrivere le relazioni pericolose, insomma testi veramente anche scandalosi, poi nel mondo dell'arte invece sceglie il marmo, sceglie il marmo e la pittura neoclassica, cioè qualcosa di essenzialmente freddo, di essenzialmente freddo e privo forse di calore, almeno per noi che lo guardiamo, anche se naturalmente ci sono dei capolavori lì in mezzo. Quando l'illuminismo comincia a scemare come corrente, ecco che naturalmente dopo poi la sconfitta di Napoleone, questo avverrà in modo ancora più evidente, c'è una fase di restaurazione, no? Il congresso di Vienna, ma già prima nell'aria si respira qualche quell'altro aspetto, cioè come dire, dark side of the moon, il lato scuro dell'esistenza, cioè la vita non si risolve soltanto in una dimensione civile, in una dimensione di virtù, di razionalità, di ordine mentale e così via. La vita ha quell'altro aspetto che noi sappiamo bene che è la zona d'ombra, insomma, dell'esistenza. In quella zona d'ombra gli illuministi riescono ad entrarci? No. I neoclassici riescono ad entrarci? No. C'è bisogno di un'arte nuova, c'è bisogno di un'arte che sappia rappresentare, raccontare una gioventù inquieta, una gioventù nomade artisti, qui normalmente c'è tutta poi l'esperienza tedesca, no? Della filosofia tedesca e della letteratura tedesca che produce libri come il giovane Werther, per dire, no? Per cui quello comunque si spara. O in Italia l'Ortis si ammazza pure lui, cioè c'è una specie di universo assolutamente privato, lacerato, ustionato dalla vita, ulcerato dall'amore, dall'esistenza che fa sì che l'arte neoclassica non possa più andare bene, non possa più andare bene. E quindi nasce questa nuova arte che voi sapete prima in Germania, lo Sturmundrang, la rivista Atenaum e tante manifestazioni in parte in cui c'è per esempio questo concetto fondamentale nel pensiero romantico, quella parola che è intraducibile, no? Che è sensucht, no? Sensucht, che vuol dire grossomodo nostalgia, no? Nostalgia, ma nostalgia di cosa? Non nostalgia di casa o di un amore perduto o della mamma, no? È la nostalgia di quel non so che, è la nostalgia di quella cosa che noi sappiamo che esiste ma che non ha nome, che è l'infinito, che è l'assoluto, che è l'armonia tra il nostro essere reale e il nostro essere ideale, quella cosa che ci sottrae alla contingenza, alla caduta nel tempo e ci porta in una dimensione in cui tutto questo ha un senso. Ma tutto questo naturalmente non esiste nel mondo reale, è soltanto una tensione ideale, una speranza, una nostalgia, una malinconia di qualche cosa che è definitivamente perduto, no? Dicono proprio i nazareni, a un certo punto raccontano questa cosa, Overbeck mi sembra, descrivono molto bene questa cosa, cioè noi a un certo punto siamo stati mandati via dal paradiso terrestre, Dio ci ha abbandonati, ci ha allontanati, ci ha mandati nel tempo e nel mondo, ma ci ha dato l'arte. L'arte è una sorta di missione che ci consente di riavvicinarci all'idea di Dio e di assoluto e addirittura arrivano a dire in modo paradossale che Cristo è sceso sulla terra chiamato dagli artisti in qualche modo, che gli hanno aperto un varco con la loro esperienza spirituale ed estetica, insomma. Quindi l'arte prende con il romanticismo questo peso completamente diverso che non aveva con l'illuminismo, cioè prende il valore di un'esperienza interiore segnata anche profondamente dall'idea di cristianità. Joseph de Maistre, Chateaubriand, tanti sono, Novalis, Novalis parla che il destino dell'Europa è il cristianesimo, il destino dell'Europa è il cristianesimo, perché è la radice comune di tutti i paesi e l'anima e il cielo sotto cui si distendono le nostre nazioni. Per cui c'è questa tensione da un lato appunto all'ideale, la tensione costante all'ideale, il streben anche dicono, il tendere, insoddisfatto a qualche cosa che è tendere ma è anche voltarsi indietro con nostalgia e dall'altra parte c'è, quindi ci sono due aspetti fondamentali, uno è questo di un rapporto solitario con l'assoluto, cioè non c'è più quell'idea del club, i girondini, i giacobini, i montagnati, c'è gente che si riunisce, scrive costituzioni, fa rivoluzioni, ma è gente comunque, l'idea è quella del pastore errante dell'Asia, l'uomo solo, solo di fronte all'idea del proprio destino, dell'infinito, della morte, dell'amore, eccetera, eccetera. E dall'altra parte la piccola speranza di potersi riunire in delle confraternite, cioè non è più la società, gli illuministi pensavano a una trasformazione sociale, dice niente per il popolo, perché poi gli illuministi comunque erano borghesi, ma niente attraverso il popolo, ma tutto per il popolo, cioè si deve lavorare per cambiare la società. E allora gli illuministi stampavano i giornali, stampavano i libri, stampavano i panflet, le riviste, il caffè dei fratelli verdi, il caffè dei fratelli verdi che cos'era? Era gente che si vedeva in un caffè, quindi in mezzo alle altre persone, per discutere dei temi brucianti dell'essere sociale. Questi artisti invece romantici tendono in questa prima fase, poi vedremo, che poi anche Garibaldi era un romantico, alla fine anche Mazzini, cioè c'è anche una dimensione patriottica più avanti, però in questa prima fase del romanticismo, il romanticismo viene inteso come un'avventura spirituale, privata, in cui ci si ritrova tra pochi sodali, tra poche persone che si capiscono tra di loro e ignorano il mondo, ignorano il mondo. È interessante, io ho letto questa cosa, come leggo una cosa che mi ha colpito, i nazareni che essenzialmente, poi ne vedremo meglio chi erano, ma essenzialmente noi ci ricordiamo di due più qualcun altro, però i due principali erano Overbeck e For, Overbeck e For. Prima c'era Cocchio, questo mio nonno, che però era più vecchio ed stava già a Roma da un po' di tempo e tutto sommato un po' di queste faccende spirituali gliene fregava poco, poi quando sono arrivati questi ragazzi più giovani è rimasto coinvolto da questa ondata di spiritualismo anche lui e poi arrivarono anche degli altri, ma questi vengono a Roma, perché la gente veniva a Roma? Perché gli artisti venivano a Roma da sempre? Gli artisti venivano a Roma perché a Roma c'era il Colosseo, perché a Roma c'erano i fori imperiali, c'era l'arco di Tito, l'arco di Costantino, c'era il ricordo della classicità, questa è la base fondamentale, il richiamo romano, si arrivava a Roma perché Roma è la patria dei Cesari, si leggeva Svetonio per capire Roma, è come oggi forse c'è l'uno e l'altro, invece questi nazareni arrivano a Roma e di quella cosa lì non gliene frega niente, proprio niente, non citano mai, quasi non ne parlano della Roma classica, della Roma pagana, insomma della Roma dei Cesari, a loro proprio non gliene importa assolutamente niente, assolutamente niente, loro vogliono la Roma cristiana, avete visto i torpedoni quelli? Giro Roma classica, Roma cristiana, loro salgono solo sul torpedone Roma cristiana, la Roma classica lo lasciano ai giapponesi, non so, a qualcun altro, invece poi a Roma, però attenzione, che succede a Roma? Com'era la Roma di quei tempi? Com'era la Roma di quei tempi? Secondo loro bellissimo ovviamente, secondo loro bellissimo perché era il centro della cristianità, però pochi anni prima, sentite come un certo Gottlieb Schicke, che era di poco più anziano di loro, che era diciamo uno che era cresciuto nell'illuminismo, come descriveva la Roma dell'inizio dell'ottocento, 1801, 2, 3, quegli anni lì. Allora, il governo dei papi è il peggiore che si possa incontrare, qualcosa accade ma non importa, poi lo raccolgo, vabbè grazie, me lo tiene, il governo dei papi è il peggiore che si possa incontrare, i principi della Curia hanno in appalto tutto il territorio e ne lasciano la metà incolta con il maledetto scopo di tenere sempre alto il prezzo del grano, il popolo così va alla malora, mangiano il pane come noi mangiamo confetti, un pezzo di pane grande come un filoncino da un Kreuzzer, costa in moneta nostra tre Kreuzzer, una libra di burro, un fiorino e alcuni Kreuzzer, perciò la gente frigge grasso impuro di ogni sorta che causa la febbre, non ci sono parole per descrivere la povertà che affligge il popolo, la fame li spinge agli estremi, rovistano fra le immondizie e quando vi trovano qualcosa che sia in qualche modo commestibile la divorano con insaziabile appetito, proprio come cani che rovistano nella spazzatura, la fame li spinge eccetera eccetera, se trovano ossa già spolpate le rosicchiano una seconda volta, pezzi di pane secco che forse giacciono sulla strada già da un paio di mesi per loro non sono ancora tanto cattivi da non poterli mangiare, non è neppur raro che qui la gente muoia di fame, gli italiani non ci fanno caso, sono abituati a queste scene, quindi la Roma dell'inizio dell'ottocento questa Roma insomma così cristiana, spirituale, piena di come dire di attenzione per l'esperienza del Cristo proprio, poi era un po' staccio invece, un po' staccio dove la gente moriva di fame, si rosicchiava gli ossi già rosicchiati, raccarigliava per terra il pane secco, frugava nella monnezza e moriva di fame, la gente manco se voltava, non è molto diverso poi da quello che vedremo pochi anni dopo con i sonetti del Belli, i sonetti del Belli raccontano questa Roma disperata, incazzata, violenta, lontanissima dagli ideali cristiani del Vaticano, dei papi, dei cardinali e così via, una Roma un po' che ride magari della propria miseria ma che comunque è affondata nella miseria, di tutto ciò i nazareni non si accorgono, non gliene importa niente, loro vivono appunto in questa piccola comunità, loro, Lucas Bruder era la confraternita di San Luca, si erano incontrati in sei pittori perché non erano stati accolti dall'Accademia di Vienna, in qualche modo l'Accademia di Vienna aveva ridotto le iscrizioni e loro erano rimasti fuori, però dentro di loro sentivano che non era più il momento di fare quella pittura accademica, di fare gli artisti per, in modo diciamo, tra virgolette borghese, in modo decorativo, accogliendo gli stili del tempo, rifacendo le solite cose, l'arte doveva essere un'esperienza integrale, quindi prendono e vengono a Roma, la stessa cosa l'aveva già fatta Josef Antoncock alcuni anni prima, che dal Tirolo era venuto a Roma a piedi proprio, vengono a Roma perché sentono che l'Italia è la patria dell'arte, noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, e qui a Roma sono talmente tanti i tedeschi che loro sentono Roma come una città tedesca, dei romani che muoiono le fame accanto ai cassonetti o quello che c'era, non se ne accorgono nemmeno, a loro interessa soltanto questo mondo di tedeschi che vivono in una verticalità artistica e che tutto ciò che appunto è nell'orizzontalità della vita sociale gli fa quasi schifo o comunque lo ignorano. E che cosa avevano letto? Ecco, questo è molto importante, ho trovato una cosa perché bisogna imparare delle cose, anche io ho fatto degli studi, adesso ecco, nel foglio della signora. Dunque, innanzitutto ci sono due o tre cose importanti da dire, due cose importanti da dire molto evidenti. Allora, innanzitutto, i pittori classici vivono a lungo, i romantici muoiono giovani, questo se lo sono scelto loro, voglio dire, vuoi essere romantico devi morire giovane perché nel classicismo c'è quell'idea di equilibrio, di rapporto con l'ambiente, di rapporto col tempo, di ricerca di un'armonia, di accettazione del mondo, il classico tutto sommato in qualche modo accetta la vita e non ci si accomoda, ma comunque ci stabilisce, entra in contatto, c'è un compromesso con l'esistenza, se uno legge Orazio, se uno legge Catullo, se uno legge Virgilio, si rende conto che lì c'è comunque amore per l'esistenza dentro il limite poi finale della nostra morte, ma che comunque sarà accettata con dolcezza e con come si accettano tutte le cose della vita, insomma. Invece i romantici naturalmente o in qualche modo odiano la vita, hanno un rapporto conflittuale con l'esistenza perché chi pensa, questo è quello che dice Hegel quando parla di Novalis e degli eralti romantici, gli spiriti tisici, gli spiriti tisici, cioè sembra a volte che il romantico sia più nobile del poeta classico, in parte forse lo è anche, però è chiaro che questo dire di no all'esistenza così come si propone e contrapporle sempre un ideale altissimo, un'idea di Dio, un'idea di assoluta, un'idea di un mondo altro, diverso, di purezza, fa sì che poi si cade in una sorta di rancore, in una sorta di irriconoscenza, di risentimento verso la vita, quella morale del risentimento che poi Nietzsche condannerà, ma che già Hegel condannava, perché dice, Hegel che pure in qualche modo è un filosofo romantico, però Hegel dice che poi alla fine è la storia del mondo, è la storia dello spirito, dello spirito divino, quindi noi dobbiamo, tutto ciò che è reale è razionale, come dice la famosa formula di Hegel, tutto ciò che è razionale è reale, quindi noi siamo calati in un mondo che è razionale, anche se a noi ci sembra a volte assurdo, per cui tutto questo spirito, diciamo, ribelle, questo fastidio, questo sputazzare contro la vita in nome di un assoluto, per i romantici della generazione seguente sarà un errore, verrà considerato un errore, ma questi più giovani, più ancora figli di quello Sturmundrang, figli di quella Germania che veniva fuori dall'occupazione napoleonica, per cui c'era un odio anche istintivo verso l'illuminismo, verso quel tipo di ragionevolezza che era stato esportato con le baionette e con i cannoni, invece loro sono un po' estremi, un po' estremi e quindi, no, dicevo, mi aveva colpito questo fatto che, questo fatto che, per dire, no, Carl Philippe Ford, 1795-1818, insomma è campato poco, 23 anni, era un allievo, in qualche modo era molto rimasto colpito dal Koch, vuole essere anche lui un pittore di paesaggio, muore nel 1818 facendo il bagno a Ponte Miglio, si butta a Ponte Miglio, non sa nuotare, gli amici dicono ma non sai nuotare e lui si butta lo stesso perché è convinto comunque di dover fare dei gesti eroici, provano a salvarlo, muore. C'è un altro pittore anni dopo, Tancredi, di cui adesso c'è una mostra, non mi ricordo dove, da qualche parte in Italia, che negli anni Sessanta muore affogato a Tevere, insomma la morte, noi sappiamo, dal Barcarolo Romano in poi, prima, dopo, durante, insomma si muore a Tevere, è un segno di disperazione comunque la morte nel Tevere, quindi questo Ford muore nel 1818 a 23 anni, aveva fatto dei ritratti, dei paesaggi, cose interessanti. Poi ci abbiamo Johannes Christopher Erhard, 1795-1822, vissuto un po' di più, diciamo 27 anni. Lui arriva a Roma, anche lui colpito, anche lui dal Koch, da questi Nazareni, però si sente inadeguato, si sente inadeguato che non ce la farà mai a fare il pittore, dipinge una bellissima Santa Cecilia, copiata un po' dalla scultura del Maderno, quella che sta nella chiesa di Santa Cecilia a Trestevere, va a prendere il veleno, prendere il veleno perché insomma vivere è troppo, meglio morire. Riescono a salvarlo, va a Olevano Romano, che è l'altro polo che vedremo dove tutti questi Nazareni vanno spesso a Olevano Romano, che è un posto secondo loro quasi biblico, quasi un posto dei patriarchi. Si riprede, dice sto meglio, torna a Roma, si spara, si spara e finisce nel 1822, suicida. Poi abbiamo, scusate, non era però qui di Santa Cecilia, ha fatto invece delle belle vedute del ponte di Montesacro, delle cose, invece Johannes Evangelist Schäffer von Lohander Schäffer, questi nomi altisonanti tedeschi, semplicemente muore di tisi, cioè a un certo punto non ce la fa più e muore. Era nato nel 1795 e morto nel 1822. Il genio del gruppo, quello che adesso di cui vedremo forse un'immagine, perché qui la regia mi ha dotato di una cosa preziosa, vediamo se riusciamo a vedere. C'è qualche cosa da accendere? Ma pure sembrava più facile prima. No, dice che forse andava acceso. Dunque, qui nella mostra che noi vediamo, perché tutto questo parte poi da questa mostra qui dei 100 capolavori del museo di Francoforte, di questa mostra, in realtà dei quadri di Nazareni ce ne sono due. Uno è un quadro del Koch, tra l'altro anche un po' classicheggiante, un ratto. E l'altro, però invece che non è male, secondo me, non è male, è questo autoritratto di Ford. Ford, tanto per intenderci, tanto per dirci le date, 1788-1812. Quindi anche lui 24 anni, no? Quindi insomma stiamo parlando di gente che bruciava la vita. Perché non si vede? Ma scusate, eh. Vabbè, niente, purtroppo, porca miseria. Ecco, autoritratto di Ford. Vedete, naturalmente questo è importante, questo quadro. Fa una certa impressione, perché quando uno lo vede sui libri non capisce, no? Vede questo ritratto, vede Guernica, sono grandi uguali magari sul libro, no? Poi vai in Spagna, Guernica è lungo, non so, 15 metri, non so quanto è lungo. Questo l'avete visto qui nella mostra, forse qualcuno ha visitato la mostra, è un quadretto piccolo, 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 piccolo. Cioè è proprio questa idea di un'intimità, non c'è paesaggio intorno, tutto è compresso in questa immagine, però che dice molto, perché se noi dobbiamo proprio immaginare una immagine al mondo, una sola, che ci dica l'artista romantico, forse siamo indecisi tra quella cosa di Beethoven scapigliato e questa di Foscolo scapigliato e questa di Franz Ford, no? Vedete, è interessante, perché naturalmente c'è alle spalle, si capisce, che ha visto anche Dürer, no? L'autoritratto di Dürer che quasi sembra il Cristo, no? Anche qui c'è qualche cosa di messianico, di malinconico, di povero, di concentrato, di vago, di elusivo eppure nello stesso tempo di presente e in qualche modo, in qualche modo io sento che, sento, ma così, non sono un critico, ma sento che c'è nell'anima tedesca, nella cultura tedesca, nella pittura tedesca, una specie di sasso che rimbalza sulle onde del tempo, che parte da Dürer, tocca a Ford e finisce fino a Kirchner e ai pittori di Brücke, i pittori espressionisti del Novecento, spigolosi, anche lì molti autoritratti dolenti, sofferenti, intensi, pieni di un'anima lì ancora più stracciata, ancora più dolorosa. Però, insomma, questo autoritratto a me piace molto, ecco, perché proprio se uno dovesse scegliere, pensare al romanticismo, insomma, tutto quello che ha significato quel tipo di romanticismo prima di arrivare appunto al romanticismo eroico, forse di 30 anni dopo, però questo del romanticismo è quello appunto di Novalis, dello Sturm und Drang, del primo Goethe, di Chopin, io lo vedo tutto qua dentro, tutto in questo autoritratto di Ford, che era insieme a Overbeck, appunto, uno dei due, quei di oscuri dei pittori nazareni, avevo trovato anche poesie, ma magari quelle le leggiamo a parte, lui all'inizio vuole dipingere, lui si sente nell'animo, pensate alla gente quanto è strana, al mondo quanto è strano, lui questo tipo qua, lo vedete, che già si capisce che stava per morire, lui si sente comunque pittore di battaglie, lui nella vita vuole fare dipingere battaglie, perché evidentemente c'è quell'idea anche Sturm und Drang, tempesta e assalto, lo scontro, l'impeto, e poi anche Piero della Francesca, Paolo Uccello, tutta quella storia pre-rappellita delle battaglie come campo di espressione artistica, come semplicità, anche come mondo dei crociati, di quel mondo in cui appunto dei templari, in cui il cavaliere è cristiano, la spada e la croce, però poi invece finisce così, sta un po' male, sta un po' male, va ad Albano, muore, muore ad Albano, mi sembra però che sia seppellito, forse è seppellito al cimitero della piramide, insomma quello da cattolico, e dunque abbiamo detto appunto, ecco perché tutti molto giovani, tutti molto giovani, tutti avevano letto questa strana favoletta, è importante capire questa cosa, imparare delle cose, allora ci sono dei test, oggi non è più così, oggi noi magari vediamo, non so a noi che cosa ci tocca oggi, forse niente, non ci tocca più niente, però all'epoca invece, no, appunto quando si dice che dopo il Werther non so quanti ragazzi tedeschi siano suicidati, l'emulazione, l'imitazione, il senso che la letteratura non fosse intrattenimento, non fosse ombrellone, non fosse, come dire, conversazione con Fabio Fazio o con la Dandini su un divano, ma che fosse un'esperienza integrale, totale, essenziale, no, che fosse questione di vita o di morte, questione di vita o di morte, i tedeschi ovviamente questa cosa qui ce l'hanno più dei francesi e anche più di noi italiani, no, insomma loro sono un po' così tenebrosi, questo li porta a Beethoven da una parte e poi a Hitler dall'altra, insomma è sempre lo stesso mondo che sta un po' in bilico, no, però per dire, no, questi tutti questi ragazzi erano rimasti molto colpiti da una strana favola, una strana favola di Heinrich Bakkenroder, uno scrittore tedesco morto a 25 anni ovviamente perché non aveva credibilità e questa favola è molto celebre, molto diffusa in quel tempo, ed è la favola del santo ignudo, vedete anche qui c'è l'idea dell'arte come santità, insomma cioè non si può disgiungere chi vuole fare l'artista deve essere vicino a Cristo, deve essere vicino all'idea di spiritualità, di santità, non c'è niente a che vedere con i salotti parigini, non c'è niente a che vedere con i caffè milanesi, stiamo parlando di artisti che vogliono fare della loro vita un atto di fede e avvicinarsi a quello spirito povero, eremitico, sofferente ma intenso dei santi. Questa piccola favola è un po', vi leggo qualche, no, dovete imparare quindi io sono professore a scuola per cui leggo queste cose perché non ve la riassumo, dice questo bizzarro essere, questo santo ignudo che vive in una grotta, sentite che fa, non aveva notte e giorno mai pace nella sua dimora, sempre gli pareva di avere nelle orecchie la ruota del tempo che senza posa girava rombando la ruota del tempo, egli non poteva far nulla a causa di questo frastuono, niente poteva intraprendere, la violenta angoscia che lo affaticava in un lavoro senza riposo, gli impediva di vedere o di udire qualunque cosa, come se la terribile ruota del tempo girasse e rigirasse nell'aria con un gran fragore, con un potente rombo di vento in tempesta, fino ad arrivare alle stelle più su, come una cascata di mille mille mughianti ruscelli che cadono dal cielo, eternamente, senza un attimo di riposo, senza la pace di un secondo, si riversa giù, così quest'urlo risuonava nelle sue orecchie e tutti i sensi ne erano avvinti e la sua angosciata fatica sempre più era presa e trascinata via nel vortice di quella selvaggia impressione, sempre più mostruosi si scatenavano l'uno sopra l'altro i suoni uniformi, egli non poteva avere pace e notte e giorno lo si vedeva affaticarsi nel movimento più sforzato e violento, come un uomo appunto che si dia pena per far girare un'immensa ruota, taglio delle parti, ma per dire che questo è il concetto fondamentale, cioè bisogna uscire dalla ruota, questo è quello che poi dirà più avanti anche Schopenhauer, Schopenhauer quando parla della vita è dolore, perché noi siamo nel tempo e nel desiderio, quindi dobbiamo disfarci dei desideri, come dicono i buddhisti, e quanto più possibile arrivare a questa estasi extratemporale, finché siamo nella ruota del tempo, il tempo ci casca addosso con questo suono mugliante, come cento ruscelli che si intrecciano e ci travolgono, c'è questa ruota che ci strazia, come la ruota della tortura, quindi questo è molto interessante, per questo santo ignudo a un certo punto vede che c'è della gente ogni tanto fuori dalla sua caverna che invece se ne frega e lavora, dice non sono santi, non sono eremiti, colpivano i campi, lui si arrabbia, esce ogni tanto ne ammazza qualcuno perché gli danno fastidio, infatti dice ma il suo furore diventava ancora più selvaggio e pericoloso se avveniva che nelle vicinanze si compiesse al qualche lavoro manuale o se qualcuno che non lo conosceva si mettesse vicino alla sua caverna a raccogliere erbe o a tagliare legna, allora scoppiava selvaggiamente a ridere per il fatto che in mezzo al terribile rotolare del tempo ci fosse ancora qualcuno che poteva pensare a quelle piccole occupazioni terrestri, come una tigre, con un unico salto usciva fuori dalla grotta e se poteva acciuffare l'infelice con un solo colpo lo stendeva morto a terra, quindi questo santo ignudo, se vedeva qualcuno che lavorava dentro la ruota del tempo, diciamo che accettava il divenire, le stagioni, i secondi, lui comunque lo ammazzava, ha detto per il fastidio, perché questa angoscia terrificante del tempo, quell'idea appunto che gli artisti classici invece sopportano meglio, quanti gli artisti classici, la campagna, le stagioni, la vendemmia, i venti primaverili, lo zephilo sereno, eccetera, eccetera, chi è l'artista classico sa che sta nel tempo, il tempo è la nostra natura, è la nostra sostanza e lo accetta, l'artista romantico invece, come questo Wackenroder, lettissimo, amatissimo dai nazareni, odia il tempo, odia il tempo perché il tempo è la vita, è l'angoscia che ci strappa sempre avanti, come dire, ogni attimo è uno spillo, è un chiodo che si conficca, per chi pensa all'eterno la vita è questa ruota dentata del tempo, è questa tortura, come se ne esce, come se ne esce, dice Wackenroder nella favola del santo ignudo, se ne esce, fortunatamente, due innamorati che volevano abbandonarsi completamente alle meraviglie della solitudine notturna, su una barchetta leggera risalivano in quella notte il fiume che scorre accanto alla grotta rocciosa del santo, il penetrante raggio lunare aveva illuminato e svegliato nei due innamorati le più intime e oscure profondità delle loro anime, i loro sentimenti più lievi si scioglievano e fluttuavano come un unico fiume senza rive, dalla barca una musica eterea saliva ondeggiando nell'ampiezza del cielo, dolci corni o non so quali altri incantevoli strumenti suscitavano un mondo nuotante di suoni e nelle note che ora salivano e rascendevano si poteva distinguere il seguente canto, insomma quando il santo così arrabbiato, così ferocemente avverso alla vita e al tempo sente il canto degli innamorati, l'arte, la musica che nasce, rompe, sgorga dalle anime di due creature romantiche improvvisamente si poteva, ecco sente che la ruota del tempo si ferma, si ferma perché l'obiettivo dell'arte romantica in fondo è questo prima appunto di arrivare ad Hegel che santifica la storia, Hegel poi santificherà la storia, ma fino a questo momento si tratta semplicemente di trovare un modo per uscire dal tempo, per questo per non vedere che Roma è piena di poracci che muoiono di fame, per non sentire la spinta del desiderio, della fame, della guerra, bisogna rivolgersi al cielo e aderire completamente all'idea dell'arte, l'arte vi ricordate come dice appunto più avanti di anche Schopenhauer che ha studiato molto il buddismo e le filosofie orientali, l'arte è ciò che ci permette di soffocare i desideri, perché i desideri sono il tempo, i desideri sono la mancanza, sono la tensione, sono la vita mutilata da cui dobbiamo sottrarci, è l'arte quella che ci accoglie nella sua pace spirituale, quindi questi artisti nazareni vivono in questa dimensione, leggono Vaccaro Reder e rimangono entusiasti, tutti quanti questa piccola favola, sta dentro un libretto in cui Vaccaro Reder parla delle vite di Raffaello, di Piero di Cosimo, di altri, tutto raccontato in un modo un po' fiabbesco, però loro sentono che questa è la strada giusta, la strada giusta dell'arte è questa, quella che poi in qualche modo sentiranno anche gli altri artisti, i grandi artisti romantici e soprattutto i musicisti, questa favola viene spesso studiata come fondamento della musica romantica da Schumann, Schubert, Beethoven, Brahms eccetera eccetera, perché è la musica quella che ci sottrae alla sofferenza inutile, magari ci consegna un altro tipo di sofferenza, ma necessaria, la sofferenza spirituale, la sofferenza come dire cristiana, uno quindi è l'arte, l'altro grande aspetto è naturalmente la natura, la natura, la natura è l'altro grande punto, per questo vengono tutti in Italia, perché non è l'Italia di oggi con le case dei geometri piazzate ovunque, il paesaggio devastato completamente per sempre, è l'Italia che a loro sembra appunto l'Italia dei patriarchi, l'Italia della Bibbia, a questi nazareni, ad altri sembrerà l'Italia della bellezza insomma, e quindi che cosa trovano? Anche qui ricordatevi cosa dice Schelling, ci sono i tre grandi filosofi romantici che uno studia a scuola, Ficht, Schelling e Hegel, Schelling cosa dice? Natura, ossia spirito visibile, spirito, ossia natura invisibile, quindi lo spirito e la natura sono la stessa cosa, la natura è spirito visibile e lo spirito è natura invisibile, quindi stiamo parlando, la natura non è, non si può studiare da botanici, da entomologi, da zoologi, da geologi come facevano gli illuministi che invece cercavano di chiamare qualcosa magari di buono dallo studio della natura e di aumentare magari la produzione economica o cose di questo genere, quella visione diciamo già occidentale, strumentale ed economicista insomma, invece per loro la natura è soltanto incanto, è soltanto manifestazione dello spirito, in questo senso Josef Anton Koch è un po', ecco, un po' di paesaggi, cioè i paesaggi del Koch molto famosi, lui richiama i paesaggi, mi è arrivato un libro grande così sul Koch adesso da una grande mossa in Germania che si chiama proprio Natura und Ideal, cioè la natura è l'ideale perché l'idea sta dentro la natura e i paesaggi del Koch si chiamano i paesaggi, lui li chiama i paesaggi eroici, eroici perché c'è una dimensione eroica nel vivere la natura, lui disegna questi grandissimi quadri di molto dettagliati, anche un po' petanti e noiosetti secondo me, però in cui molto precisi ma in cui gli uomini sono piccoli, gli uomini, questa è la cosa fondamentale, grandi arcobaleni, grandi montagne, prima quelle del Tirolo, poi quelle dell'Appennino, grandi boschi e uomini, piccoli, 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 non è gli uomini del Petito di Cenè sull'Erba, non sono gli uomini nella natura degli impressionisti che in qualche modo partecipano e abitano la natura in modo realista, l'uomo romantico vive come un suddito nella natura, come genuflesso nella natura, come dire, pregando la natura, perché la natura è la manifestazione di Dio, manifestazione di Dio. Quindi questo è un quadro piuttosto tardo di Koch che invece appunto avendo qualche precedente classicheggiante muore vecchio, perché mica è romantico e quindi non muore a 22 anni, questo paesaggio di Dio con Ratto d'Ilas, vedete un tema addirittura neoclassico, però è interessante che il Koch, e questo è un altro aspetto fondamentale, quella cosa, quella formula che dice, studiata insomma da Schlegel e tutti gli altri, ut pictura poesis, no? Se non mi sbaglio si conta così, sì. Ut pictura poesis, cioè voglio dire, la poesia, la poesia è la base di tutte le arti, mentre nella pittura neoclassica Mengs, Lessing, si era andati verso un discorso di studio, di specializzazione delle arti, cioè le arti cominciano ad essere studiate e ognuno ad avere il proprio linguaggio che va indagato, capito, compreso, espansio, eccetera, eccetera. I romantici non sentono questa cosa qui, come oggi anche a me, un po' quando mi preparano i generi letterari, no? Dicono i generi letterari, oggi si parla molto, no? Il genere è una, è la morte dell'arte, secondo i romantici, esiste soltanto, esiste soltanto lo spirito, no? Esiste soltanto lo spirito, cioè che lo spirito è la poesia. La prima, il fondamento di tutto è la poesia, che non dobbiamo pensare alla poesia necessariamente come gli indecasillabi, le cesure, le rime. La poesia è semplicemente l'anima del mondo e la pittura nasce dalla poesia. Se c'è poesia c'è grande pittura, se non c'è poesia non c'è niente, c'è soltanto bottega, c'è scuola, c'è tecnica, ma questi loro, anche se erano molto pignoli, essendo tedeschi, facevano, rifacevano i quadri, però negli scritti dicono che per loro la tecnica non è importante. La tecnica è importante per chi crede appunto al linguaggio dell'arte, ma loro non pensano al linguaggio dell'arte, pensano all'aria che c'è nell'arte, al vento, al respiro, al pneuma, al dio che c'è nell'arte, no? Quindi loro che cosa dicono? Che la pittura italiana vale finché ci sono i grandi poeti, finché c'è Dante c'è Giotto, finché c'è Petrarca ci sta, non mi viene il nome, poi ci sta naturalmente Ariosto, finché ci sta il Tasso, i Carracci, fino a naturalmente a Beato Angelico, ovviamente Beato Angelico per loro è un riferimento importantissimo, il santo, il frate che affresca le stanze del convento di San Marco a Firenze, che è pittore ma perché la pittura lo porta verso Dio, è pittore perché la pittura è un gesto spirituale, non è un gesto tecnico. E quindi fino naturalmente a Raffaello, Raffaello è il punto d'arrivo di tutti quanti, Raffaello è il genio assoluto. Dopo Raffaello la poesia in Italia diminuisce, scema e quindi anche la pittura diventa più decorativa, più un fatto di bellezza un po' fine a se stessa, il manierismo, il barocco, tutta quella roba lì, non interessa più, è importante la pittura finché è legata a un'esperienza spirituale e dunque un'esperienza poetica dell'esistenza. Quindi dove c'è la poesia per loro c'è l'arte. Questo per dire anche che cosa, appunto, che quando vanno a trovare la casa, dice, va a trovare For, va a vedere a Urbino la casa di Raffaello. Lui descrive, dice, lui scende da cavallo, entra nella porta della città e chiede dov'è la casa del santo? Dice, dov'è la casa del santo? Cioè lui non pensa a Raffaello come un pittore, un bravo, il migliore dei pittori del rinascimento, per lui è un santo, perché in Raffaello si arriva a quella sintesi assoluta di semplicità, di espressione, perché, appunto, guai se l'arte diventa virtuosismo, guai se l'arte diventa tecnica, eccetera, eccetera. Deve esserci, appunto, quella essenzialità dell'ideale. Naturalmente per loro è molto importante, anche, adesso qui entriamo in dei discorsi più tecnici appunti che mai ero preso, però, insomma, magari per chi gli interessa la pittura, il disegno e il colore, no? Il disegno e il colore. Il disegno nel mondo, diciamo, del mondo neoclassico è sempre stato molto importante per i classici nel disegno, perché il disegno è l'idea, diciamo, gli artisti di Firenze, no? Gli artisti di Firenze, quelli platonici, in qualche modo, fino, è proprio il disegno, è il modo in cui il concetto si fissa, il concetto si stabilizza. Invece per loro non è questo, il disegno per loro ha a che fare, invece, con l'idea della congiunzione dei punti del disegno divino, cioè il disegno ha a che fare, anche qui, con la fase della creazione divina, non c'entra niente il concetto arido e freddo dell'illuminismo e del neoclassicismo, è il modo in cui il pensiero di Dio si precisa per un attimo nel mondo. La stessa cosa è il colore, no? Qui, naturalmente, anche loro c'è anche un certo polemico, loro, naturalmente, come tutti i romantici, devono molto a Goethe, no? Goethe è chiaramente il faro di tutti i romantici tedeschi, però a un certo punto, Goethe ha scritto anche il saggio sui colori, no? Però Goethe, a un certo punto, loro non lo capiscono più, essendo così un po' duri e puri questi nazareni, forse anche un po' ottusi per certi aspetti, a un certo punto gli arriva tra le mani il saggio, il libro di Goethe del viaggio in Italia, no? Loro se lo passano sconvolti, non credono ai loro occhi, cioè Goethe, il maestro, il riscatto della poesia tedesca nel mondo, quello che ha scritto il Faust, quello che ha scritto il Werther, invece loro scoprono che lui vede, il Goethe vede l'Italia come un bel posto, no? Dove si mangia bene, ci sono delle, a Roma c'è delle donne, Goethe, va a vedere le città, trova che sono posti ameni e piacevoli, le campagne Firenze, Venezia, Roma, tutto, è un viaggiatore diciamo in qualche modo sereno Goethe, no? C'è questo lato anche olimpico nella letteratura di Goethe, quindi non c'è nulla di travagliato, allora loro dicono ma Goethe non capisce più niente, essere incoglionito Goethe, non vede il viaggio come un viaggio di bellezza, ma la bellezza non conta niente per questo, conta soltanto l'intensità, per cui loro rimangono molto delusi da Goethe, anche l'idea un po' illuminista dei colori come piacevolezza, i colori come piacevolezza, loro la respingono totalmente, nulla che abbia a che fare con la piacevolezza sensistica di scuola appunto materialista, illuminista, li tocca, il colore deve essere espressione del carattere, ogni colore, infatti a loro gli piace molto la pittura pre-Raffaellita, proprio il colore è piatto, è totale, intenso, ci deve essere poca sfumatura, poco passaggio da un colore all'altro, il colore è verità, è verità di un soggetto, di un carattere, di una figura, quindi il disegno è il pensiero di Dio e il colore è ciò che sei, quindi che sei come destino, come vocazione alla vita, quindi questo appunto, ripeto, per loro è tutto in questa dimensione. Questo appunto invece è la Cassana, mi fa piacere, questa sarebbe la mia nonna, la mia nonna Cassana che io non avevo mai visto, mi piace molto questo ritratto e mi commuovo anche un poco. La cosa interessante appunto in questa dimensione, noi siamo una conferenza culturale quindi dobbiamo anche dire delle cose un po' precise, questo Overbeck, di cui però vorrei farvi vedere perlomeno l'opera più importante. Overbeck diciamo è quello che gli altri muoiono tutti, muoiono tutti, è un po' tipo proprio quella generazione di rocchettari anni settanta, insomma, Jimmy Handys, Jadis Joplin, muoiono tutti. Overbeck invece un po' più furbo, insomma a un certo punto rimane sconvolto dalla morte di Ford, che era il suo grande amico, anima gemella, c'è una poesia bellissima di Shelley, anima gemella, cioè sentire quello che sente l'altro, le due esistenze che colano una dentro l'altra, sono veramente due fratelli, tant'è che ecco questo quadro molto importante, Italia e Germania di Overbeck, nasce da un'idea di Ford, che era quello più estremo e più concentrato sull'arte, che lui aveva dipinto un piccolo dittico Sulamit e Maria, Sulamit e Maria, Sulamit sarebbe la Sulamit del Cantico dei Cantici e Maria sarebbe la bella, la Germania, la donna tedesca. Questo dittico che purtroppo noi non abbiamo qui, ma io ho visto, insomma, ve lo trovate su internet, cioè è un quadro appunto primitivo, semplice, rozzo, goffo, perché appunto loro rivendicano, bisogna essere semplice e goffi in qualche modo e da una parte c'è appunto questa donna Sulamit che sarebbe l'Italia, con dietro un paesaggio italiano, con dietro una collina, un paesetto eccetera eccetera. E dall'altra parte Maria che sarebbe invece, sarebbe la donna tedesca, la donna tedesca nella sua stanzetta con i vetri a piombo, una camera, un aspetto un po' gotico, insomma, no? Perché poi, ricordiamoci anche questo aspetto, perché lui, Ford aveva letto ad Overbeck una favola, anche qui il mondo delle favole importanti, in cui Sulamit e Maria erano due sorelle, che loro si sarebbero sposati, non? Lui sognavano, Overbeck e Ford, grandi amici, di sposarsi due sorelle e che, secondo Ford sarebbero state Sulamit e Maria, in questa sua favola, cioè l'Italia e la Germania, perché per far coincidere questi due aspetti fondamentali dell'arte, da un lato l'aspetto italiano pre-raffellita, diciamo, della grande pittura italiana, dall'altra parte naturalmente a Ford e a Overbeck piacevano la pittura primitiva tedesca, la pittura primitiva tedesca, quella un po' rosa medievale e quel mondo tedesco spoglio, povero, appunto, di donne, quel mondo domestico. Molti quadri di Overbeck rappresentano anche, perché questo è importante, io l'ho capito, cioè non sono poi così asceti, il loro ideale non è l'ascesi, non è il santo ignudo che odia il mondo, il loro ideale è la famiglia, il loro ideale è la famiglia, come tutti i cristiani, sono molti quadri che rappresentano degli ambienti in cui ci sta Overbeck o Ford con una donna, con un bambino, con una biblioteca, con un ambiente anche quasi un po' borghese, quell'idea molto tedesca della famiglia, quella che poi sarà la famiglia anche, magari, la bionda famiglia ariana a un certo punto, però che in questo momento è ancora fortunatamente pura, è la famiglia intesa come la quotidianità sacra, la quotidianità benedetta, la fatica del giorno, ecco, in cui si crescono i bambini amando Dio e amando l'arte, un mondo per noi assolutamente surreale oggi, però che è bello per certi aspetti. E quindi quando muore Ford, appunto ad Albano, di tisi, di malaria, non ricordo che è morto, a 24 anni, Overbeck gli rimane questo tema, gli rimane il tema delle due sorelle da rappresentare, che devono essere l'Italia e la Germania e non se lo porta avanti per tanti anni perché ha una crisi tremenda, come se rimanesse mutilato, gli muore metà della sua vita, poi invece Overbeck si sposa, eccetera, e questo è appunto 1811, però poi è stato in realtà finito più tardi e vedete le due immagini stanno a rappresentare proprio un quadro anche bello, insomma, in questo momento in cui noi parliamo sempre di Europa unita e di fratellanza tra i popoli europei che invece si ignorano e si addirittura permangono delle ostilità e delle antipatie, invece qui vedete naturalmente la ragazza bruna è l'Italia e la ragazza bionda è la Germania. La ragazza bruna, tutti e due un po' sognanti, pure, pure, insomma, fanciulle medioevali, perché ricordiamoci che il Medioevo per loro è il tempo fondamentale, dietro la ragazza tedesca ci sta una cattedrale gotica tipo Duomo di Cologna o qualcosa del genere, dietro la ragazza italiana, come dire, una dolce collina marchigiana o toscana, insomma, e questo è un quadro perché appunto queste mani intrecciate, i vestiti che sono i vestiti appunto quelli medioevali, addirittura questi poeti nazareni a Roma, appunto i romani li chiamavano gli scharponi, hanno cominciato ad andare in giro vestiti anche con i vestiti del tedesco un po' popolari e bavaresi quasi, insomma, per cui loro anche questo recupero. E quindi questo è un aspetto che è importante. Io, che ore sono, giusto per capire quanto tempo abbiamo ancora, perché vi devo parlare ancora di due o tre cose, ma non vi vorrei annoiare. Che ore sono? Allora, quello che voglio dire è questo. Naturalmente, come tutti i cristiani, come tutti i pittori cristiani, a un certo punto però loro interessa sia questi quadretti domestici, puri, assoluti, come dire, francescani quasi. Dall'altra parte però c'è sempre l'idea, dice, oh, però qui tocca fargli affreschi, no? Qui bisogna anche un po' parlare al popolo, bisogna convincere la gente, bisogna che la nostra pittura sia una pittura, loro odiano anche gli illuministi perché loro pensano che i neoclassici e gli illuministi siano in fondo degli snob, siano delle persone che parlano degli intellettuali, appunto la solita faccenda degli intellettuali parigini che se la cantano e se la suonano e parlano a pochi. Noi dobbiamo fare invece una grande arte cristiana e popolare, parlare a tutti, come hanno fatto i grandi pittori italiani che dipingevano tele con le madonne, i santi, i cristi, affreschi, quindi dobbiamo allargare le nostre dimensioni, dobbiamo espanderci, dobbiamo conquistare metri quadrati di muro, no? E quindi loro, c'è un altro pittore che si chiama Cornelius, importante, che a un certo punto riesce ad avere una commissione. A Roma ci sta il console prussiano che si chiama Bartoldi, cugino qualcosa del genere di Mendelssohn Bartoldi, il musicista tedesco, e questo è molto bello che ho letto, gli dà da affrescare casa sua, che sarebbe Palazzo Zuccari, quello che sta su a Trinità di Monti, credo che sia quello con quei mascheroni, dove ci sono anche dei fratelli Zuccheri, eccetera, eccetera. E' bello che ho letto un libro che dice, gli dà affrescare, quindi un lavoro enorme, tutte queste stanze da affrescare, eccetera, eccetera, benché il console fosse in affitto, no? Dice, questo mi ha fatto tenerezza, non era manco casa sua, però lui, vabbè, non fa niente, investo questi soldi, anche se sono in affitto, ristrutturo i bagni, sai quelli che dicono, rifaccio il salone, così. Quindi, in qualche modo, lui chiama questi pittori, Cornelius Overbeck, eccetera, eccetera, soprattutto Cornelius Overbeck, e gli dice affreschiamo casa mia, però ci serve un tema, il tema naturalmente per loro è sempre tema religioso, Bibbia, eccetera, cose del genere, quindi loro prendono come tema le storie di San Giuseppe, però, scusate, le storie di San Giuseppe, le storie di Giuseppe in Egitto, i sogni del faraone, Giuseppe venduto dai fratelli, le piaghe d'Egitto, insomma, tutto quel lato lì, perché, appunto, c'è questo elemento un po' profetico in Giuseppe che interpreta i sogni, insomma, in qualche modo c'è un elemento, secondo loro, artistico. Ci mettono un sacco a fare questi affreschi, molti, Cornelius Molle a un certo punto, mi sembra, che va in Germania, perché a Roma, ricordiamoci, in quegli anni c'è anche Ludwig di Baviera, che è quello che poi sarà il principe, perché però va a cena con loro, è uno simpatico, ancora, prima di diventare Ludwig, è uno che gli piace circondarsi degli artisti, ci sono dei quadri in cui si vede proprio Ludwig, se andate all'Aquacetosa c'è una panca e si dice, qui si sedeva Ludwig di Baviera con un'amica sua a parlare del più e del meno, era uno che amava molto Roma, amava molto gli artisti e quindi poi li chiamerà a Monaco per affrescare le cose più importanti, ma intanto a Roma loro affrescano questa casa, ci mettono un po' di tempo, poi a un certo punto riescono a finire, ma a questa casa non c'è più questi affreschi, non ci sono più, perché sono stati un certo punto staccati e stanno al museo di Berlino, ma intanto loro si sono conquistati una fama di persone che non fanno soltanto quadretti come quell'autorizzato di Ford, 20 cm x 15, ma sanno anche dipingere grandi spazi e quindi è il momento, e loro ci tengono molto a questo aspetto della divulgazione del messaggio cristiano e dell'idea poetica della pittura. E qui invece abbiamo il loro diciamo apparente capolavoro, anche se poi non è sto granché tutto sommato se uno lo va a vedere, che è il cosiddetto Casino Massimo che sta a San Giovanni, gli affreschi di Villa Massimo, poi dove ci sono, gli vengono assegnati dal conte Massimo, non so se era conte Principe, che cosa era? Tre stanze in cui loro dovevano raffigurare la divina commedia, la Gerusalemme liberata e l'Orlando furioso, quindi loro si devono mettere la loro pittura appunto che c'è questo altro elemento, oltre a quello cristiano c'è quell'elemento poetico che loro interessa, insomma cambia molto perché poi Cornelius parte, viene sostituito da uno insieme a White, poi se ne va, subentra il Koch, il Koch fa la divina commedia e è l'unica cosa che mi è rimasta, un disegnetto preparatorio che c'è mia sorella e non c'ho io, ma insomma comunque è restato in famiglia di questi disegni della divina commedia perché Koch ha studiato molto la divina commedia, come ha studiato molto Shakespeare, ha fatto delle opere dal Macbeth, uno con le streghe del Macbeth e anche i canti di Ossian, di Macpherson, quindi gente proprio molto legata alla poesia, alla letteratura. Invece Overbeck si dedica alla Gerusalemme liberata e invece Schorn, che è il terzo pittore, fa l'Orlando furioso e quindi se voi volete andare lì a vederlo, ancora è aperto e potete visitare, purtroppo lo spazio è piccolo, non hanno avuto questa, per fare gli affreschi evidentemente serve più metratura, insomma, noi che siamo abituati ai grandi affreschi romani, i barocchi, le svolte delle chiese, cose di questo genere, lì è tutto un po' schiacciato, tra finestre, porte, spigoli, per cui insomma colpisce magari un certo tentativo generoso di sintesi, ma poi alla fine il risultato secondo me non c'è, non c'è fino in fondo. Anche il Koch si sbatte molto per fare Dante, le tre fiere e così via, ma alla fine non conclude più di tanto e quindi questa è l'altra opera fondamentale e vi vorrei ancora leggere, forse concludere o quasi concludere, adesso non ho capito quanto tempo abbiamo, un brevissimo saggio di Overbeck che parla delle tre vie dell'arte, il viandante, quindi siamo già un passo avanti rispetto all'eremita, al santo ignudo che vive nella caverna, però loro dicono che nell'arte ci sono tre possibilità di ciò, la prima è la via della natura e della verità, bene o male chi cammina attraverso questa via trova un paese accogliente in cui spesso belle visioni ricreano il viandante, non è una via zig zag ma è dritta, comune a tutti gli uomini, sicura, la via in qualche modo della natura e della verità, è la via secondo lui di Dürer in cui tutto quello che c'è nella natura noi dobbiamo rappresentarla, tutti gli uomini lo possono capire, è una via diciamo c'è un qualche elemento forse di mediocrità ma è sicura e popolare. La seconda via è quella della fantasia che porta attraverso un paese di favole e di sogni, è l'opposto della prima, è una strada che va su e giù per abissi e vette, pochi hanno il coraggio di entrare in questa regione, questa regione del sublime, è la via dell'uomo solitario ed è la via secondo lui di Michelangelo, l'idea quindi da un lato la realtà, dall'altra parte il sublime, la fantasia, la visione, qualche cosa di straordinario, poi dice c'è la terza strada che è la strada dell'ideale e della bellezza, quella di Raffaello, non è il mezzogiorno del paese della natura né la notte del paese della fantasia, è un crepuscolo gentile, verità e bellezza si fondono nell'ideale, ecco quindi siamo tornati a quello che dicevamo all'inizio, a questa tensione che questi artisti hanno verso l'ideale, vedete qui anche la natura viene sempre in qualche modo riletta in una maniera spirituale, nel senso della bellezza, anche qui vedete comunque c'è il solito eremita o santo in un angolo, insomma della natura bisogna cogliere l'aspetto divino, dell'arte bisogna cogliere l'aspetto divino e tutto il resto è invece soltanto mondanità oppure razionalità, intelligenza ma che ha poco a che fare con quel spirito un po' pauperistico, essenziale, totalizzante dell'arte, per cui loro che vivevano in questa confraternita, che dipingevano in queste cellette, che leggevano, si leggevano le poesie, si mostravano i loro disegni, i quadri, giravano con i sandali, avevano le barbe lunghe, i capelli lunghi, erano destinati appunto dalla storia dell'arte poi ad essere un po' dimenticati perché incapaci di creare un rapporto cordiale con l'esistenza, con la vita, con la natura che è fondamentale e anche perché proprio rivendicavano una certa rigidità, una certa rozzezza anche come segno di onestà e di bellezza spirituale, però sono interessanti perché in qualche modo sono anche dentro quell'elemento della storia dell'arte, di quelle confraternite, che come Guido vorrei, insomma come quei poeti del dolce stil novo, insomma quelli che si oppongono al mondo in nome della bellezza e dell'anima, ecco, e quindi il mondo poi gli passa sopra come un rullo compressore, gli tende a schiacciarli perché la vita è sempre più pesante, più intensa e più violenta dell'ideale spirituale, però è importante che nell'arte esistano questi artisti, è importante che ci abbiano lasciato questi pochi quadri però abbastanza interessanti e che ritroveremo poi nell'esperienza tedesca più avanti perché l'esperienza di Bruche, dei poeti espressionisti o quella del Cavalli del Blau Reiter, di Franz Marc, di Kandinsky, in fondo anche loro Kandinsky dice lo spirituale come l'artista, come vetta della piramide, la società il punto più alto è l'artista perché è l'unico che percorre la via spirituale dell'arte, insomma come anche Franz Marc, invece quelli poi saranno tutti un po' distrutti dalla prima guerra mondiale che anche lì la vita è più pesante, più violenta di ogni sogno, però appunto in questa storia che parte da Dürer, cioè dalla pittura tedesca intrisa di cristianesimo, passa attraverso i nazareni che sono un po' come degli hippie però più rigidi e severi e arriva secondo me fino appunto alla pittura degli anni dieci tedesca di Bruche e del Blau Reiter dove si rivendica da quelli degli espressionisti alla Kirchner l'aspetto anche lì sgradevole, violento, spigoloso dell'esperienza artistica e quelli alla Franz Marc è invece l'elemento della natura come patria dello spirito, come ricettacolo dell'anima. Gli animali di Franz Marc sono degli animali ma sono anche degli esempi di beatitudine quasi, di beatitudine. E con questo mi sembra che ci siamo detti tante cose e possiamo concludere, grazie.